L'attualità, e diciamo anche più propriamente la cronaca, ci offre ovviamente tanti spunti, tante possibili storie, tracce. Sappiamo anzi di scrittori che davvero hanno lavorato in questo modo, cioè sono partiti da fatti di cronaca, da episodi più o meno famosi, più o meno all'attenzione insomma del pubblico, per elaborare poi la loro storia. Magari questa è una pratica che ancora si utilizza nelle scuole di scrittura, quella di aprire un giornale, di cercare delle notizie e di inventare a partire da esse la nostra storia. Inventare tecnicamente significa proprio questo, saper trovare, trovare tra tutto ciò che già il mondo in qualche modo ci offre. Le storie sono già intorno a noi, possiamo intercettarle. e poi inizia la fase di rielaborazione e magari si impara a scrivere quella storia a secondo punti di vista differenti, magari insoliti, inconsueti. Gli esempi in questo senso che si potrebbero citare sono molti, per farne uno soltanto pensiamo a Truman Capote che ha scritto quel capolavoro come A sangue freddo. Ma a me viene in mente anche uno dei tanti possibili aneddoti, ma ne riprendo uno molto recente, ed è quello riferito ad una scrittrice, una di quelle che ho incluso nell'antologia Splendere ai margini, che ho curato da pochi mesi ed è uscito da pochi mesi, e che mi raccontava di un suo romanzo letto da un importante agente che è rimasto molto ben impressionato e che ha risposto così alla scrittrice dicendo guarda, se lo riscrivi andando appena appena a declinarlo in un'ottica femminista, io te lo pubblico, so piazzarlo sicuramente. Al di là della risposta, in questo caso negativa da parte della scrittrice chiamata in causa, è interessante riconoscere, scopriamo l'acqua calda, però riconoscere le pressioni che abbiamo intorno a noi, anche come scrittori, per rispondere al tema del giorno, per obbedire agli argomenti che sono un po' sulla bocca di tutti. E allora ecco che ha un fatto di cronaca, può rispondere persino il poeta da telegiornale o da trasmissione televisiva che interviene, gli danno il suo siparietto, i pochi minuti in cui potrà declamare quei suoi 4 o 5 versi in memoria, ahimè, magari anche di una persona scomparsa o di un fatto cruento, o insomma di un dato che ci riguarda come cittadini. Ora, chiariamoci su questo, non voglio irridere questi personaggi e questi atteggiamenti. È profondamente umano il nostro desiderio di rispondere al contesto e di prendere parte, perché no, al dibattito pubblico, in qualsiasi forma questo sia fattibile. Quindi ecco che le chiacchiere che si fanno al bar, le discussioni in famiglia, perché no, anche i post sui social hanno il loro perché, la loro ragione d'essere. E non nego il fatto che uno scrittore di genio sia, perché no, anche in grado di captare, di cogliere l'evento contemporaneo e di prenderlo come spunto per la propria arte, che si tratti di una poesia, che si tratti di un racconto, di un romanzo o altro. Ma, come potete capire bene, le insidie di fronte a questo gesto così istintivo e genuino, e anche autentico, sono molte. Perché l'urgenza del tema e dell'argomento è una saponetta su cui facilmente noi scivoliamo. Il ragionamento che vorrei proporre allora è questo, di scrivere, anche di getto e di impulso, qualsiasi cosa sia dettata eventualmente dalla cronaca, dall'attualità, ma poi di guardare bene le proprie ragioni e cercare di considerare, guardando bene proprio gli specchi che si mettono attorno al proprio ego, per vedere se quell'opera che lasciamo non sia alla fine soltanto frutto di un istinto, di un desiderio, di una presunzione. Se scriviamo e sentiamo l'urgenza di pubblicare una poesia sul tema del femminicidio, che è un tema serissimo evidentemente, compiamo un gesto umanamente comprensibile. Ma, da un punto di vista letterario, dobbiamo poi vedere se ciò che abbiamo scritto è veramente arte, oppure è qualcosa di pretestuoso, e non diciamo di furbetto, perché a quel punto c'è consapevolezza da parte dell'autore di chi si presta ad un gioco non autentico, ma che gli conviene. Questo è un'altra possibilità. A me interessa invece lo scrittore che sente, percepisce davvero l'urgenza e il desiderio di scrivere di determinate tematiche. Ebbene, lo faccia, ma il consiglio che posso dare è quello di scrivere e lasciare decantare il testo, lasciare passare del tempo. Ma come? Se è dedicata ad un fatto di cronaca, perché non proporlo nell'istante, proprio durante la fase importante di dibattito, di discussione intorno a quelle determinate vicende, perché noi dobbiamo fare arte, perché si cerca di compiere qualcosa che parli nel tempo, che non bruci il proprio significato attorno al contingente, che non è nemmeno il presente, ma che è qualcosa che si riguarda un dato preciso e storico, ma che ha una radice più profonda nel tempo, nella storia, nell'epoca. Se quello che scrivo rispetto ad un fatto di cronaca sento già che tra un anno non avrà più senso, allora forse è meglio non avere la presunzione di scrivere su quel tema, perché in fondo i meccanismi che scattano sono vari. Il primo è quello per esempio di darsi un tono. Sono uno scrittore e sono uno scrittore impegnato, come si diceva una volta, no? Sono uno scrittore attento al mondo contemporaneo, non sono isolato in mezzo ai miei libri, in mezzo alle mie fantasie, alla mia torre d'avorio, come abbiamo più volte detto. E allora voglio scrivere del mio tempo, voglio parlare alle persone del mio tempo, voglio entrare nel dibattito anche con le mie opere. L'intento è ottimo, ma appunto ci si sta dando un ruolo che forse nemmeno si ha. Posso capire addirittura di più allora quel personaggio che sta in tv e che legge la poesia scritta a caldo su fatti molto delicati e molto particolari, ma si dà un ruolo, partecipa ad un rito sociale, forse anche consapevole della sua frivolezza, della sua inautenticità. E va bene, lo fa entro questi meccanismi espliciti. Almeno lui il ruolo ce l'ha, almeno lui è sul palco, è al centro dell'attenzione. Per chi non ha questa visibilità, allora presumere di darsi un ruolo è una forma tutto sommato di compiacimento. Se vogliamo agire come persone rispetto ad un problema, scegliamo quelli che sono davvero i nostri ambiti, i nostri campi di impegno, che magari sono ristretti nella nostra piccola società, nel nostro ambito di lavoro. Lì cerchiamo di agire per migliorare la situazione, anche perché lo capiamo bene che certe problematiche, per esempio quello che abbiamo appena citato del femminicidio, sono problemi enormi che riguardano una cultura millenaria, ma che riguardano anche l'economia, che riguardano sicuramente le famiglie, l'educazione, riguarda la cultura e determinati valori che essa veicola. Ecco, allora non possono certamente servire pochi versi e nemmeno un racconto, un romanzo per davvero modificare la realtà. Allora il nostro ambito più autentico è quello, per carità, di partecipare ad un dibattito portando questa intelligenza e questa consapevolezza. Guardiamo anche i social quante volte le persone si sfogano, si tolgono un peso, prendendo parte per una persona, per uno stato, per un problema, per un partito piuttosto che un altro, così come gesto, come sbotto personale, in modo da essersi dati così un certo tono, che è fasullo tutto sommato. Meglio sarebbe leggere, ascoltare, capire, ragionare, guardare la complessità dei dati e agire concretamente laddove uno ne abbia le possibilità. Come artista, allora, vuoi scrivere, senti il desiderio di fare un riferimento alla cronaca, all'attualità, fallo, ma abbi la capacità, la destrezza, la pazienza di lasciare decantare il tuo testo. Se dopo pochi mesi non serve più, già non suona, forse tu stesso hai compreso che quel particolare testo è vuoto, è una lattina non riempita e ha assolto il suo significato nel gesto stesso della scrittura. La pubblicazione non serve, anzi sarebbe soltanto deleteria. Ci stiamo esponendo quindi contro ogni forma d'arte che in qualche modo sia impegnata? No, abbiamo soltanto ribadito quanto sia difficile e subdolo compiere un gesto profondamente artistico, capace di durare nel tempo, se questo nasce da un fatto di cronaca, specialmente se poi questo fatto di cronaca è già sulla bocca di tutti, partecipa al bla bla generale, all'atmosfera generale. Sappiamo, infatti, ci ricordiamo che l'artista cerca di dare uno sguardo comunque originale e potente, che ci porti un pochino al di là della semplice indignazione, della semplice reazione emotiva, delle nostre ragionevoli, ahimè forse fin troppo ragionevoli e quindi qualche volta anche banali ovvietà. L'arte ha la capacità di pungere, trafiggere, entrare, mettere radici nel presente, fino anche nel contingente, nell'attimo in cui si sprigiona una scintilla di senso che viene colta, ma poi puntato quell'istante apre il proprio compasso nel tempo e nella storia per disegnare un cerchio molto più ampio. L'arte, insomma, in questo modo, non racconta semplicemente l'istante, racconta il presente e grazie a questa sua capacità è presente e quindi pre-sente, pre-sente, ciò che è di lì a venire. Per avere questa capacità di previsione, di prefigurazione del futuro, l'arte ha anche la capacità, il coraggio, di fronte alla richiesta di tutti coloro che vogliono usare l'artista per i loro fini e quindi chiedono all'artista dacci la poesia sulla guerra, dacci la poesia in difesa delle donne sempre vittima della cultura patriarcale. L'arte e l'artista, dicevo, rispetto a queste richieste la capacità di dire anche no, di sottrarsi, ma non perché è arte disimpegnata, semmai perché il proprio impegno non è assoldato alla cronaca, non si limita all'attualità. È un impegno, in questo senso, allora, molto più lungo, molto più duratura.